Ce la posso fare, ce la posso fare, è la quarta volta che scendo le scale per prendere la schedina della telecamera ed è la quarta volta che risalgo senza schedina. Siccome sono certa, faccio fatica anche a fare le scale. Va bene, ma buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati, bentornati o benvenuti sul canale. Bene, oggi è lunedì, un inizio di settimana molto autunnale con piogge fitte, le temperature sono comunque ancora calde e ho deciso che siccome ho qualche ora di tempo, girerò qualche video in modo che settimana prossima, quando ritornerà la Rinella a casa sua, almeno potrò regalarvi dei contenuti sul canale, simpatici, ridicoli e quant'altro. Per chi non lo sapesse, la Rinella è la mia mamma, vedova da tre anni, che da quando è rimasta vedova non sa più che cosa fare perché ha acudito il mio papà che era paralizzato da 18 anni sulla sedia a rotelle ed è dura poi non aver più nulla da fare da quel punto di vista lì. I miei figli ormai sono grandi, sono indipendenti, io sono comunque molto indipendente e cerco di non avvalermi del suo aiuto per niente perché comunque lei è anziana e prima mi stirava quando aveva i bambini piccoli, curava i bambini, adesso ovviamente l'età è quella che è e soprattutto ha qualche problemino di salute, quindi durante l'anno si fa delle vacanze, tra virgolette vacanze, dalla sua sorella che è rimasta vedova anche lei, si fanno compagnia, dicono il rosario tutti i giorni, ascoltano le messe, vanno a confessarsi, vanno al cimitero, queste attività ludiche di donne anziane rimaste da sole, si fanno molta compagnia ed è questa una cosa bellissima nel quale sia io che i miei cugini siamo davvero molto contenti, però ogni tanto ritorna a casa sua e quando ritorna io devo essere a sua completa disposizione, ma non lo dico con cattiveria, con sarcasmo, io sono contenta, però gli manca il pane, devo andare a prendere il pane, gli manca il prosciutto, devo andare a prendere il prosciutto, per fortuna abitiamo vicine e quindi quando lei c'è il mio tempo è veramente molto molto rosicato, oltre a tutte le attività poi che faccio, quindi vabbè, premessa lunga per dirvi un buongiorno, per dirvi una buona settimana, per darvi un buon lunedì e oltretutto così riesco appunto a registrare qualcosina e poi pian piano programmerò, perché ho capito anche come si fa a programmare i post ragazzi, cioè i video, i post, sono ancora legata al blog, come programmavo i post del blog, adesso ho capito che anche su YouTube si possono programmare i video e quindi farò così, quindi vi do il buon lunedì, ma probabilmente lo vedrete in un altro giorno della settimana. Ma vando alle ciance, oggi video dei prodotti finiti casa, perché non ci stavamo più nel bagnetto di servizio al piano terra e quindi Paolo mi ha sollecitato dicendomi, ma non fai il video dei prodotti finiti che così svuotiamo tutto quello che c'è lì. Ebbene sì, oggi prodotti finiti, so che è un video che piace a molti, perché ci sono sempre degli spunti interessanti, spero anch'io di darvi qualche spunto interessante. Comincio con le cose più delicate che ho finito, tempo d'autunno, tempo in cui ci piace accendere le candele, accendere magari gli incensi profumati, o almeno a me piacciono tantissimo gli incensi, mi piacciono tantissimo le candele, ne ho una collezione, come mi piacciono i tè, come mi piace un sacco di cose, quindi ho finito qualche candela. Principalmente compro quelle della Yankee Candle che mi piacciono tanto, perché sono davvero molto costose, ma anche molto profumate e quindi riesco a prenderle solo ed esclusivamente quando sono in sconto, altrimenti mi sentirei davvero tantissimo in colpa. Ho provato anche alcune altre marche, ma non mi soddisfano come le Yankee Candle e ho scoperto invece la candela Price Candles che sono rivendute in uno spaccio qui vicino a me, a Oggiorno, dove c'era la ex cereria Sgarbi, per chi è della zona la conosce bene. Non ho capito bene se la cereria Sgarbi è stata inglobata nella azienda Princess Candle, comunque c'è questo spaccio che quando io ci vado ci lascio una fortuna, perché le candele comunque costano molto meno delle Yankee Candle e secondo me hanno quasi, non vorrei spoilerare nulla, però hanno quasi la stessa profumazione, hanno la stessa forma del vaso e quindi adesso le Yankee Candle stanno finendo e penso settimana prossima di andare a fare un giro alla ex cereria a Sgarbi per fare gli acquisti autunnali natalizi. Allora, cosa ho finito? Ho finito la Houghton Pearl, perle d'autunno, sì ve la stavo facendo sentire, sono veramente svarionata nonostante sia lunedì. Comunque è un profumo buono, dolce, un po' autunnale, ma anche molto fiorito e arriva a questo livello, io non riesco più a accendere perché lo stoppino si consuma completamente. Quindi finita questa, finita questa che è meravigliosa, era a due stoppini, mineral marine, profumo molto marino, ma anche abbastanza fiorito, con questa etichetta davvero carina. E finita questa che è la vanilla lime, buonissima, veramente buona, questa l'abbiamo accesa anche in azienda, nel mio ufficio in questo momento, ci piace un sacco, ogni persona che entra nell'ufficio dice ma che buon profumo, cosa sono? La nostra candela Yankee Candle, buonissima. Ecco questa è così, come vedete ci sono dei rimasulli perché non si riescono più a riutilizzare. Lei li cosa fa? Adesso vi dico cosa faccio, faccio sciogliere tutte le candele a bagnomaria, le metto in una pentola, le faccio sciogliere a bagnomaria, lavo un contenitore di questi, poi ci metto uno stoppino, ma ti pareva che la Eli non ha neanche lo stoppino delle candele, ma certo che ce li ha perché io faccio anche le candele. Ci metto lo stoppino che tengo appoggiato sul vaso in questa maniera, qui c'è una piccolina, piccola, non so come dire, scanalatura, quindi voi lo mettete nel vaso, adesso ve lo faccio vedere così, voi lo mettete nel vaso, ci versate nel vaso pulito le varie cere sciolte a bagnomaria e riformate una nuova candela. Volendo a vostro piacere potete anche aggiungerci degli oli essenziali o delle fragranze adatte a candela che ritenete che siano quelle che il più vi piacciono e così avete una candela nuova con una profumazione nuova e non si butta via niente di questi tempi. Quindi queste sono le mie candele che ho finito. Questi sono i finiti home, poi abbiamo anche i finiti beauty, ma li facciamo in un altro video. Allora, finito come al solito le mie tavolette da WC Home Circus, come ho detto in più video, queste sono le mie preferite, mi regalano un WC profumato, ovviamente il WC bisogna lavarlo, un WC profumato, un WC che ha le pareti completamente bianche perché all'interno ha la candeggina e quindi aiuta a mantenere il WC pulito. Sono buone, ci sono in varie profumazioni, hanno un prezzo abbastanza contenuto, ce ne sono due per confezione, a me piacciono tantissimo, le uso e le riuso, sono quasi le uniche che io compro e ricompro, sia in sconto che non in sconto. Ho una bella borsa dell'IKEA gigantesca e ci butto tutto. Poi ho finito un additivo smacchiatore capi colorati, elimina le macchie difficili, mantiene i neri brillanti, igienizza e protegge i colori della Konad. Mi piace molto che sia nella scatola di cartone con l'apertura perché poi io lo vado a versare in un contenitore di plastica di quelli dei vecchi igienizzanti e così posso comunque riutilizzare il contenitore di plastica e la carta va nella carta. Mi trovo bene con quelli della Konad, sia questo per i capi colorati che quello per i capi bianchi, forse è dentro all'inizio e hanno dei prezzi buoni e quindi quando ci sono li prendo oppure prendo anche quelli di marca quando sono solo in offerta. Per esempio come il Vanish che mi piace tantissimo, questo lo butto perché ho già quattro contenitori quindi non è il caso di riempire l'armadietto della lavanderia con un altro contenitore. Il Vanish mi piace, lo uso anche per pretrattare, quindi prendo un po' di polverina, lo metto sulla macchia e poi strofino un attimino, mi lascia i capi puliti, igienizzati e soprattutto aiuta a mantenere la lavatrice pulita e non ha più quell'odore che aveva un po' di anni fa. Lo comprerei ancora? Sì, quando è in offerta le marche così abbastanza famose le compro solo in offerta perché abbiamo dei prezzi abbastanza elevati per modo di dire, per un igienizzante. Insomma, poi finito, Dexal gel lavatrice tutto in uno fino a 37 lavaggi, mi sto trovando benissimo, l'ho preso in un momento di necessità al Eurospin, ne ho comprati tre e devo dire che fa il suo egregio lavoro, pulisce, lascia la lavastoviglia profumata, i piatti, i bicchieri rimangono puliti come se fosse un detersivo di alta gamma, quindi cosa voglio di più dalla vita? Ho visto che però anche questo è aumentato, l'ho comprato l'altro giorno e se non ricordo male è a 3,99€. Sta aumentando pian piano tutto in tutti i negozi discount o supermercati. Ho terminato, nel senso che è giù da basso ma non ho portato sul vaso, questa candela Bolsius che ho comprato alla Tigotà, costava sui 6,70€ se non mi ricordo. Ha il profumo di tè verde, si buona, si profuma non in maniera eccessiva, però insomma il suo lavoro lo fa. Certo, preferisco sicuramente le Yankee Candle e le Princess Candles. Insomma ci siamo capiti. Finito questo sciogli calcare igienizzante spray della Primia, io lo uso esclusivamente per la cucina, per il lavello, per il gas, mi piace, mi trovo bene, ha un buon profumo, fa il suo lavoro, benissimo. Questo io lo trovo all'Iperal. Ora, direte, ma i gabinetti della Ile sono tutti toppati. Finiti questi due disgorganti gel della Conad, io li utilizzo principalmente per le docce perché sia nella mia doccia che in quella di Lucia che ha i capelli molto lunghi, ogni tanto bisogna così dare una disgorgata allo scarico della doccia perché anche se si puliscono i capelli alla fine comunque rimane sempre bloccato. Buono, fa il suo lavoro, mi piace, non ho una preferenza di marca. Quelli della Conad vanno benissimo. Finito, cioè finito, ho utilizzato e quindi ve lo faccio vedere il ricambio del Rotomop, del Rotowash, Rotowash era una volta, Rotomop adesso si chiama. Li avevo trovati in offerta e ne ho presi due perché quelli vecchi ormai erano un po' sgualciti e si erano assottigliati. Invece adesso le fibre sono belle grosse, puliscono molto bene, fanno un bel attrito sul pavimento quindi puliscono bene anche perché avendo poi codi in giro io il pavimento soprattutto della cucina lo pulisco sempre. Finita questa carta igienica della Aquam Comfort, carta igienica tra puntata, sì va bene, era secondo me anche un po' troppo spessina, non mi piace la carta igienica troppo grossa però era in offerta e quindi ho preso questa. Non ne ho altre perché si vede che poi sbattono via le confezioni. Finito, il General Fresco Mughetto Eco, questo era un residuo bellico, il profumo di mughetto si sente tanto, era un residuo della casa di vacanze, ce n'era dentro proprio poco 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 buono. In General quando avevo i bambini piccoli lo compravo molto molto più spesso, adesso vi faccio un po' conquistare dalle nuove uscite, dai nuovi detersivi però questo pulisce bene, non so neanche se esista ancora. Anche questo era un residuo bellico, dash simply, freschezza estiva, come vedete anche nella casa di vacanze avevo la scorta, buono, profumo fiorito del dash, il dash è il mio detersivo per lavatrice preferito, soprattutto quello in polvere che uso alternandolo, ma siccome compro i fustini e mi durano una vita e mezza, mi piace quando sono in offerta li compro. Finito questo deodorante liquido per lavastoviglie al limone, questo ve l'avevo già fatto vedere, l'ho comprato, non ricordo se all'MD o all'Eurospin, ma sia quelli dell'MD che sia quelli dell'Eurospin sono buonissimi, fanno il loro lavoro come quelli di marca che costano tantissimo, questo l'avevo pagato o 1,29 euro o 0,89, non ricordo, li cambio spesso perché la lavastoviglie a casa mia va sempre, essendo in 4,5 e dove quasi tutti siamo a casa spesso, una volta al giorno di sicuro o forse anche due. Finito, fabuloso, non vi dico neanche più niente sul fabuloso perché lo sapete è il mio ammorbidente preferito, l'unico che mi lascia la scia sui vestiti lavati, sulle spugne ed è quello che io ricerco, oltre alla morbidezza, lui per me è il migliore. Questo ha proprio un profumo classico di pulito, molto delicato, ma comunque voi lo sentite, lo sentite soprattutto sulle spugne e soprattutto se le spugne in giorni come questo dove c'è brutto tempo, li fate asciugare nell'asciugatrice. Finiti due profumatori per ambienti, quelli che si usano con i bastoncini di legno, la marca è Irge, non saprei dirvi se è famosa oppure no, io questi li trovo nel mio market cinese, Home Fashion o Fashion Home, uno dei due, non mi ricordo mai come si dice, uno ai fiori di cotone e l'altro al mero grano, hanno una buona profumazione, devo dire anche abbastanza persistente, io ogni due o tre giorni giro i bastoncini e mi sembra di capire che la profumazione si senta un pochino di più, sono buone, non sono eccellenti, però hanno un prezzo contenuto e per me al momento va bene così questi sono di vetro e quindi li lasciamo qua. Poi, direte voi, finalmente Irge è finito di lavarsi le mani. Allora, finiti questi due mapponi che ho usato soltanto io, di Balea, questi risalgono al mio primo acquisto di Balea quando sono entrata in quel mondo meraviglioso e mannaggia me che ci sono entrata, adesso Balea avrete visto sui social ovunque ha aperto lo shop online, vi dico però che non ci sono tutte le referenze, alcune sono solo disponibili nei negozi, quindi molto bella questa cosa perché anche chi non ha la possibilità di comprare nel negozio fisico può un attimo scegliere sul negozio, non so se poi arriveranno piano piano anche tutte le altre referenze, io per esempio tutte le limited edition, i calendari dell'avvento ho visto che è comparso l'altro giorno, altri calendari non li ho visti quindi ok, va bene, nel senso che è bello poter acquistare online però è sempre molto più piacevole andare nel negozio fisico e scegliere quelle chicche che solo visivamente vi attraggono tipo le maschere con il loro pack, tipo i kit da regalare a Natale, quindi io sabato con la mia collega Lella, ciao Lelli, andremo in avanza scoperta, partiremo alle 8 da Lecco per essere nella bergamasca, non a Oreo al serio ma da un'altra parte e andremo a vedere che cosa ci riserva il DM nelle sorprese di Natale. Comunque tornando a noi, questi due saponi che questo lo avevo nel bagnetto del piano terra e questo lo avevo invece sul lavandino della cucina. Tra i due, allora la profumazione è ottima per entrambi, questa è una profumazione abbastanza autunnale con il mandarino e la vaniglia. A me è piaciuta, ci ho messo tantissimo a finirla perché il sapone è un liquido, lo uso soltanto io, gli altri preferiscono la saponetta, quindi buona, veramente molto buona, può darvi comunque un sapone mani e invece di questa, vi dirò di più, è buonissima e oltretutto mi lasciava le mani profumate quando utilizzavo, non so, lavavo il pesce, tagliavo la cipolla, quindi mi toglieva anche un attimino il profumo, cioè il profumo, l'odore che rimane un po' quando tagliate la verdura o quando pulite la carne e il pesce. Questo mi lasciava le mani morbidissime, al contrario di questo, questo mi lasciava le mani pulite normali, questo mi lasciava anche le mani morbide come se sopra ci fosse un film protettivo, quindi questo l'ho apprezzato molto di più proprio per le sue caratteristiche ammorbidenti sulle mani. Comunque mi sono piaciuti entrambi e sicuramente se troverò qualche altra novità li comprerò. Stateli buoni. Finito ovviamente il Prill, che il Prill è il Prill, è buono, è ottimo, lo compro però quando solo è in offerta perché appunto anche lì i prezzi sono lievitati ovunque e anche sulle grandi marche, quindi questo vabbè mi piace, penso uno dei miei preferiti di detersivi liquidi per la lavastoviglie, però vabbè posso anche farne a meno insomma, quando ci sono le offerte le prendo qua, mi sta cadendo tutto. Finito della Grey, lo sciogli macchia colore expert, anche questo è buono, nulla da dire, anche se adesso ne ho trovato uno della Sial che ragazzi non devo neanche strofinare, ma per il video della Sial e dei prodotti che sto amando, ci vedremo prossimamente. Mi piace, mi piace tantissimo, questo è buono insomma, io lo uso tantissimo soprattutto sui colorati, Mattia fa il cameriere stagionale al momento perché non ha trovato ancora nulla, poverino, e quando torno a casa con le camice nere, perché divisa è nera, sporca magari di unto di olio e si sente tantissimo l'odore delle patatine fritte da pizzeria, questo io lo utilizzo, lo spruzzo in generale sulla camicia, lavata anche a 40 gradi funziona, rimane profumata, pulita, senza aluni e quindi è buono. Poi vediamo se abbiamo dei doppioni, no. Ok, finito questo profuma biancheria da mettere nella lavatrice, nell'asciugatrice e anche sui pavimenti, io l'ho usato solo ed esclusivamente nella lavatrice, è buonissimo, buonissimo, il profumo di vaniglia si sente, rimane, buonissimo, mi piace e sicuramente li ricomprerò, penso sia una delle profumazioni che mi sia piaciute di più della Dexal, buono. non so più dove buttare la roba, sta cadendo tutto, finite. Queste ricariche, perché non so da voi, ma qui le zanzare ci sono ancora, quindi questa la tengo sull'anticamera del reparto notte mio e di Paolo e questa la tengo in cucina. Se le tolgo le zanzare ritornano, è anche vero che noi abbiamo un pezzettino di giardino fuori, ma ragazzi miei, al 24 di ottobre potrei anche farne a meno. Ci sono anche le cimici, ho delle cavallette gigantesche, l'altro giorno, l'altra sera chiudevo la finestra, mentre chiudo la finestra vedo una cavalletta veramente enorme, era grossa così. Chiudo le persiane e mi salta addosso, ho preso un infarto, non riuscivo a staccarmela, cioè era proprio attaccata, appiccicata. Quindi per cercare di non ucciderla, che vabbè, ok? Io sono rispettosa di tutti gli insetti, di tutti gli animali, insomma, non ho gridato perché ho una certa, però è così. Muschio bianco, anche questo l'ho comprato sempre dai Home Fashion Home e ce l'ho in cucina. Sì, profuma, devo dire che profuma. Muschio bianco ha un buon profumo, ripeto, non sono dei profumi che si sentono, cioè tu entri in casa e dici, ah, ecco, no, anche perché forse la mia cucina è grande, anche perché spesso ci sono le finestre aperte. Adesso io, insomma, non ho ancora trovato la profumazione perfetta, però devo dire che questi fanno anche il loro lavoro. ho veramente una profumazione molto bella, molto intensa, quando accendo le candele della Yankee Candle o della Princess Candles. Altro detersivo Dexal finito, come vi ho detto, mi è piaciuto tanto. Cosa abbiamo qua? Un profumatore, sempre per ambienti, al mughetto, qui diceva ricarica per diffusore catalitico, la commessa mi ha detto che andava bene anche per il diffusore, o meglio, io l'ho provato nel diffusore catalitico, poi il diffusore catalitico l'avevo pagato una ciofeca ed valeva una ciofeca, quindi ho dovuto buttare via tutto e poi l'ho riutilizzato invece nei diffusori con il bastoncino, profumava di mughetto. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Tutti questi profumatori appunto io li ho comprati alla catena di cinese che poi non è, probabilmente non è neanche più cinese perché di cinesi non c'è più neanche l'ombra. Direte, ma è lì? Hai profumato tutta la casa? Sì. Questo invece è Jardin de Flor al gelsomino, comprato da Tigotà, questo ha una buona profumazione e una buona durata. Questo ce l'ho nella mia camera e mi piace molto, non è super intensissimo ma darebbe anche fastidio, ma se tenete la porta chiusa e quando entrate in camera la profumazione si sente. Ovviamente l'accortezza di cambiare ogni 2-3 giorni la posizione dei bastoncini perché sprigiona molto più profumo e alla fine della boccettina andate a cambiarli e li prendete nuovi, li sostituite. Altro profumatore che mi è piaciuto, Dexal l'originale, quello proprio al profumo di pulito, sì è vero, è molto buono, ha proprio il profumo di panni puliti di una volta, quelli stesi al sole, buono buono buono. Quindi nulla da dire contro questi profumatori, mi piacciono davvero tanto, il costo è contenuto, durano tanto e quindi li compro e li ricompro molto spesso. Bene, con questo video noi abbiamo finito, probabilmente ne girerò degli altri quindi mi vedete sempre vestita alla stessa maniera, toglierò il maglione perché adesso mi sta arrivando una calura micidiale. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto e al prossimo video. Vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, se volete rimanere aggiornati attivate la campanella così saprete quando i nuovi video della Eli saranno online e buona giornata e buon pomeriggio. Ciao e grazie!